L'Ulsa 6 Eugania ha ideato e messo a punto un servizio digitale innovativo e gratuito che consente al paziente di collegarsi in modalità telematica con il proprio cardiologo, essere da lui televisitato e ricevere il referto online senza la necessità di recarsi in ambulatorio, evitando così spostamenti superflue e in questo momento storico potenzialmente a rischio. Una modalità nuova che si rivela particolarmente preziosa durante l'epidemia. Si tratta di una piattaforma applicativa chiamata Health Meeting che fa incontrare online medico e paziente senza uscire di casa. La sperimentazione inizia su 10 pazienti affetti da scompenso cardiaco seguiti presso l'ambulatorio dedicato che si trova all'ospedale di Piove di Sacco in provincia di Padova. Nei giorni successivi la sperimentazione sarà estesa a tutte le cardiologie dell'Ulsa 6 e poi ad altre specialità.